E siamo pronti per esplorare la 1.20 di Minecraft. Ragazzi, come avete letto dal titolo, infatti, in questo video andrò finalmente ad esplorare la 1.20 all'interno del mio mondo di Minecraft. Ma come si strutturerà questo video? Praticamente vi farò vedere degli spezzoni all'interno del video, vi farò vedere tutto quello che ho trovato riguardo alla 1.20. Il mio intento era trovare il minimo indispensabile di tutto per iniziare a farmare e usufruire di nuovi materiali e delle nuove risorse, tra cui tutti gli armor trim, le uova di sniffer e il nuovissimo albero di ciliegio. Quindi vi lascio le clip e non vi faccio perdere altro tempo, vi chiedo solamente per favore un'iscrizione al canale che vi farebbe molto piacere per arrivare ai 1.000 iscritti su questo canale o un bel mi piace per supportare la serie. Quindi ragazzi, vi faccio vedere le clip e vi auguro buona visione. Ed ecco qui ragazzi, finalmente ho trovato. In realtà ci ho messo poco, come vedete le coordinate siamo molto vicini, lungo a casa, circa 1.500 blocchi. Ed ecco qui il cherry grove. Adesso prendiamo tutto quello che riusciamo a prendere. Ed ecco qui il nostro bottino. E ora andiamo alla ricerca degli armor trim. Speriamo bene. Bro, non interromperai la mia missione. Eccolo. Ma il lag ce la farà invece? Ma alla fine Redfolks domina. Eccoci lo stronghold. Sì ragazzi, ho cominciato dallo stronghold perché è una delle strutture più vicine. E come vedete si è esponato proprio all'interno di un... Cioè, proprio vicino all'acqua. Sopra un fiume. E quindi top. Andiamo subito a cercare... La struttura. Mannaggia la puttana però. Non mi sono portato le torce. Eccoci nella biblioteca, ragazzi. In teoria... Ehm... L'armor trim del lander dovrebbe essere uno dei più semplici da trovare. Se non sbaglio ha quasi... Cioè, ha una percentuale molto alta di essere trovato. Ehm... Ecco la chest. E quindi qua dovremmo avere appunto l'armor trim. Eccolo qui ragazzi. Il primo armor trim della vanilla. Ed è proprio lui. L'hai armor trim. Ottimo, ottimo. Lo prendiamo. Tra l'altro è uscito un libro. Però vabbè, course of vanishing. Questo magari lo lasciamo qui. Mi segno le coordinate di questo stronghold. Perché se dovessero servire delle librerie, le abbiamo qua. Ottimo. Passiamo al prossimo template. Ecco il tempio della giungla, ragazzi. E fra poco si sta facendo notte. Vabbè. Ehm... Smontiamo qua e prendiamo subito... Ottimo. Ce ne sono pure due. E armatura per cavalli. Via. Tutto mio. A posto. Guardate che sto facendo, ragazzi. Sono andato in miniera per prendere del fottutissimo copper. Perché mi sono dimenticato di fare la brush per la suspicious sand e la suspicious gravel. Guarda caso. Ho trovato qua un pozzo con appunto la suspicious sand. E adesso sto perdendo tempo a craftare un fottutissimo brush. Non una fottutissima, ma un fottutissimo. Vabbè. Ho bisogno delle tue piume. Grazie. Ed ecco la brush. Ecco, ragazzi. La prima sabbia sospetta che vado a spolverare. Se ci da già un template, ti impazzisco. Ovviamente no. Un pezzo di copper. Vabbè. Dai, è la nostra prima esperienza. Butta sta merda. Vediamo un po' che c'è. Eccolo qui. Terzo armor trim. Ottimo. Buttiamo via queste cose. Dai. Ottimo, ottimo. Non ci crederete, ragazzi. Ma è tipo il... Sono andato a cercare i relitti questa volta. Ma è tipo l'ottavo relitto che sto cercando. Sto qui cercando relitti giusti da almeno una trentina barra quarantina di minuti buoni. E ora arrivano pure i droned che mi rompono i coglioni. Alla grande proprio. Dimmi che c'è l'armor trim. Finalmente, ragazzi. Finalmente l'armor trim. Eccolo qui. Ora per fuori. Levatevi dai coglioni. E fatemi cercare altro. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Ho trovato un albero di ciliegio tutto quanto solo. Cioè, ho trovato, credo, il bioma del boschetto di ciliegio più piccolo di Minecraft. Cioè, questo è proprio da documentare. Pazzesco. Ecco, ragazzi. Guardate che outpost di pillager ho trovato. Cioè, è altissimo. E adesso cerchiamo di... Orco 2. Eeeh, aiuto. Potrebbe anche la gara di meno, comunque. A te non ti voglio uccidere. Ok, ecco gli armor trim. Direi di andarcene. Perché io non volevo prendere la maledizione. Ok, ci mettiamo in un punto e dormiamo. E nel frattempo che ultimo a cercare i prossimi armor trim. Ragazzi, mi sto spingendo veramente per un sacco di blocchi. E tra l'altro questo è già il secondo giorno. Che cerco gli armor trim. Quindi, per farvi capire quanto tempo ci sto mettendo. Ok, ragazzi. Ho trovato la magione. Guardate le coordinate della clip precedente. E guardate quelle di adesso. Sì, non vi sto prendendo in giro. Guardate quanto sono andato lontano. Cioè... E guardate soprattutto le mie elytra. Cioè... È la seconda volta che le riparo. Non ho parole. E questo sarà anche tostilo come dungeon. Da un bot che non esplora una magione. E devo saccheggiarlo un po' tutto per cercare la cassa con l'armor trim. Non dovrebbe essere un problema, visto che sono molto forte. Cazzo! Cazzo! Eh, eh, no! Eh, no! Raga, raga, raga! No, 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 no! Com'è possibile che fanno tutto sto danno? Porca miseria! Scappa! Ho sottovalutato i... I vindicator, cazzo! Eccolo qui, ragazzi. Ho finalmente trovato l'armor trim. Pure due zappe indiavante. Io, sinceramente, dopo quello che ho passato in sto posto, direi che me li prendo. Ok, ragazzi. Siamo alle città dell'end. Perché? Perché anche qui, appunto, si trova il prossimo armor trim. Ho deciso di andare qua, invece che finire i biomi dell'overworld. Perché questo era un bioma, rispetto a quelli che mi mancavano, decisamente più semplice. Perché, di fatto, nell'overworld ci manca ancora il bioma del warden, che, vi dico già, ho un po' la caca. Più che altro perché nella mia vanilla non ho mai, appunto, affrontato il warden e non ho mai esplorato uno in Ocean City. E poi, soprattutto, perché il warden è forte. E quindi, se lo facessi spawnare, sarebbe la fine. Vediamo se qui c'è, appunto, la costa. L'altro, se... Comunque, otteniamo un'elitra gratis. Armature che non si buttano. Arma... Oh, diamanti. Ed eccolo qui. Il nuovo armor trim. E già che ci sono, un'elitra come souvenir extra. Diciamo che... Oh. Non si butta niente. Eccolo, sì. È proprio un bastione. Ragazzi, qua ci servono due armor trim. In particolare, ci serve il netherite upgrader e l'armor trim, appunto, quello genetico. Il nether upgrader, se non lo sapete, serve, appunto, per... Cioè, è il nuovo metodo per, appunto, rendere le armature da... Gli item, da diamante alle derite. Ora, dobbiamo trovarli e dobbiamo affrontare i bruti. I bruti sono molto ostici. Eccolo qui, il tesoro. Perfetto. Qua, le possibilità di trovare il netherite upgrader sono altissime. Porco due! Ma stanno cadendo come dei down. Ma che cazzo? È diventato una farm di bruti. Figo. Eccolo, ragazzi. L'ho trovato. E in più, nella stessa cassa, ci sta pure lo snow armor trim. Allora, qua mi sono dovuto un attimino riparare. Ho fatto un corridoio per raggiungerlo perché non volevo rischiare. Ma questo posto è tanta roba perché c'è lo spawn di Magva Cube. Quindi mi salvo le coordinate. E chissà, prima o poi magari ci farò la farm di Froglight. Vediamo. Prima di continuare il video volevo dirvi che c'era la clip dove io appunto avevo trovato l'armor trim nella fortezza del nether. Ma in editing ho visto che questa clip non è stata registrata. E quindi purtroppo mi posso far vedere quella parte. Però spero che mi crediate sulla fiducia che l'ho tenuta senza cittare. Continuiamo con il video. Ok ragazzi, mi sa che abbiamo trovato il Tempio Marino. Allora, il Tempio Marino, devo dire la verità, è molto pericoloso. Perché comunque i mob che dobbiamo affrontare là dentro sono tosti. Non so se lo sapete, ma per ottenere, intanto sto andando di dietro perché devo prendere delle cose. Dicevo che per appunto ottenere l'armor trim del Tempio Marino non esistono le casse. E quindi bisogna uccidere l'ender guardian e ha un drop rate del 20%. Qual è il problema? Che esistono appunto tre ender guardian per ogni Tempio Marino. Quindi se in quei tre ender guardian nessuno me lo droppa, allora mi toccherà cercarne un altro. Allora, pesci di merda. Sono abbastanza equipaggiato, dovrei riuscire a killarli facilmente. Ehm, ragazzi, però... Ehm, ragazzi! Bannaggia la puttana! Eh, sono fortini eh. Ah, su esci! Droppato? Manco per la fava, vaffanculo. Muori, muori, muori! Coglione! Sì, droppato! Godo! Mi è andata bene, ragazzi. Era già il terzo che killavo. Ottimo! Sì, sono nel bioma del warden. Accogliamo qualche blocchetto. Perché io, spoiler, non ho mai esplorato questo posto. Per scendere, credo che utilizzerò della lana per, appunto, fare la scala. E mi sono dato una pozione di night vision. Allora, ragazzi. In teoria, qua intorno non dovrebbe esserci nessuno shrieker. Apro. Mio! Mio, 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 ragazzi. Ottimo. Mio, 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 mio. Perfetto. Tra l'altro, questa è la mia ultima pozione di night vision. Se finisco, questa è finita. Prima, raga, ve l'ho tagliato. Ma è sponato un cazzo di warden. E... Non so dove sia finito perché l'ho seminato. Però, eccolo. Abbiamo ottenuto il primo armor trim. Però... C'è stato quello più comune. Tanto sto collezionando i disc fragment. Così facciamo pure la... Magari la bussola di recupero. Ma va bene. Ora vedo di cercare il silent armor trim. Che è il più difficile da trovare. In questo ancient city. Fa che sia la volta buona, per favore. Vai. Cazzo. Devo sca... Non ci credo, ragazzi. Finalmente ho ottenuto. Ho saccheggiato quasi tutto, praticamente. L'ancient city. Non potete capire che cazzo di ansia, ragazzi. Ne sono sponati altri due nel frattempo di warden. Mi sa che adesso è il momento di andare a cercare i siti archeologici. Ragazzi, ho trovato questo villaggio nella... Nella spiaggia. Con anche le tartarughe. Molto belle. Ma... Insieme. Mentre stavo cercando appunto i siti archeologici. L'ho trovato appunto qua in mezzo al villaggio. Quindi, ragazzi. Ora inizierò a scavare questo sito archeologico. Vedere come è appunto la struttura al suo interno. Ma prima di iniziare questo scavo di questo sito archeologico. Andiamo a spolverare questa roba. Wow! Un seme! Io quasi quasi... Sai che vi dico? Che merda! Quindi... Scaviamo a vedere se qua in mezzo c'è il... Tra suspicious gravel. Ma non credo. Ragazzi, ho ottenuto finalmente un armor trim. In realtà dovevo poco, guardate. Ho scavato pochissimo di questo sito archeologico. E da questa gravel ho trovato uno armor trim. Perfetto. Ce ne mancano solamente tre. Oh, ragazzi. Orca Troia. Eccolo. Il secondo armor trim. Allora, non so se... È lo stesso che abbiamo... Cioè, che ho preso prima. Ma... Se non lo è... Io faccio un bel let's go. Prende quanto una casa. Eh no! Infatti è diverso. Sium. Ce ne mancano solamente due. Ragazzi, un altro ancora. Subito dopo. Ma che fortuna sto avendo. Ce ne manca solamente uno. E poi posso dire di aver ottenuto tutti i template del gioco. E andiamo, ragazzi, con il resoconto di tutto quello che sono riuscito a trovare in questo episodio. Partendo dagli incantesimi, anche se... Comunque, come vedete, sono shiftato e riesco a muovermi molto rapidamente. Perché ho messo l'incantesimo Sweet Sneak sui gambali ottenuto nella Ancient City. Molto utile. Era da un anno, in realtà, che lo volevo prendere, ma non l'ho mai preso. Ho le letra quasi distrutte, ma dettagli. E poi, si era notato, quando sono andato a scavare nei siti archeologici, ho incantato la... La brush con una breaking and mending. Semplicemente perché non si può mettere altro. Infatti, è durata anche molto. E ho spazzolato un bel po' di roba. Poi, vabbè, qua ho sistemato un po' di roba. Ho messo tipo le shard. Qua ho messo skulk, catalyst, queste cose qua. Qua ho messo un po' di roba del Tempio Marino. Perché sì, ancora non avevo esplorato il Tempio Marino. Anche se ora, avendo ucciso gli Ender Guardian, ci tornerò. Perché voglio demolirelo e comunque raccoglie un sacco di risorse. Però queste sono le cose più importanti. Ho ricavato 16 armor trim su 17. Me ne manca uno, ottenibile sempre con la Suspicious Gravel, ma non avevo più tempo. E sinceramente manco voglia. Comunque, 16 su 17 direi che è un ottimo risultato. Poi, ovviamente, per essere più completi cercherò anche il diciassettesimo, ma lo farò off camera a questo punto. Molti poteri shard che ho sia qua che qua. Oltre ai dischi di Aaron Cheroff Relic, che non sapevo manco potessero droppare GG, quindi. E, diciamo, tutti i blocchi legati al tema Cherry Grove. Tanta roba, poi questi ovviamente li farmerò, ma in generale voglio concentrarli su questi 16 armor trim differenti. Cioè, ho ottenuto quasi tutti gli armor trim del gioco. E quindi niente signori, questo era il video della vanilla, l'episodio numero 21, dove appunto esploro la 1.20 della mia vanilla. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportarlo. Noi ci sentiamo con un nuovo video su questo canale. Ciao a tutti!